In Italia circa 1.200.000 persone sono affette da glaucoma, una patologia degenerativa della vista che nel mondo è la seconda causa di disabilità visiva e cecità. Per ribadire l'importanza della prevenzione e dell'informazione, dal 6 al 12 marzo ricorre la settimana mondiale del glaucoma, con visite gratuite in molte città. Professor Leonardo Mastropasqua, direttore del CNAT, Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia, è professore ordinario di Oftalmologia dell'Università d'Annunzio di Chiadi Pescara. Cosa è il glaucoma perché è importante curarsi? Ma il glaucoma è una malattia sociale che colpisce il 3-4% della popolazione, è una malattia molto subdola perché infatti si chiama il ladro silenzioso della vista perché non dà nessun sintomo. È praticamente legato ad un aumento della pressione dentro l'occhio, che è ovviamente asintomatica, agisce a livello del nervo ottico, schiaccia il nervo ottico, ammazza le fibre del nervo ottico e automaticamente si chiude il campo visivo. Solo che il paziente non se ne accorge, capisce, perché si chiude quello periferico fino all'ultimo, riesce a vedere e poi quando se ne accorge è troppo tardi perché le fibre morte non possono più essere al momento fatte ripartire, perché quelle che sono morte sono morte. ha una quota di ereditarietà, ha un'associazione con l'assottigliamento corneale. Più sottile è la cornea come spessore, maggiore è il rischio di poter contrarre il glaucoma. In pratica non basta più prendere solo la pressione degli occhi, ma bisogna prendere la pressione degli occhi e fare una pachimetria, la misurazione dello spessore corneale. Quali sono i numeri del glaucoma che interessano la popolazione abruzzese? 80-90 mila persone che sono affette da glaucoma, perché poi è legata l'età. La popolazione abruzzese ha un'età media molto alta e quindi più alta è l'età, più alto è il rischio di avere il glaucoma. Ci sono visite gratuite organizzate nell'ambito di questa settimana? Basta telefonare gli oculisti che sono sul sito della società, che sono a disposizione per poter fare visite gratuite, ma le ripeto, noi qui abbiamo il centro regionale dei glaucomi presso la nostra clinica, diamo una disponibilità di strumentazione perché siamo un centro nazionale di alta tecnologia e al tempo stesso abbiamo un parco di oculisti e di ortotisti che è a disposizione 24 ore su 24, 365 giorni su 365 attraverso il nostro pronoso corso e a disposizione totale. Quindi se uno ha un rischio, un sospetto, un dolore, una qualsiasi cosa, trova il nostro pronoso corso aperto tutti i giorni, tutti, feste comprese, notte comprese. Abbiamo parlato della prevenzione ma ci sono anche delle cure per il glaucoma? Terapia medica finché si riesce a tenere sotto controllo la pressione, poi la terapia laser che è in una fase intermedia e poi c'è la terapia chirurgica quando non si riesce in nessuna maniera a tenere sotto controllo la pressione il paziente va operato. Ecco, la cosa più importante è che proprio in questo caso medico pietoso, piaga gangrenosa. La cosa peggiore è tirare avanti per non operare una pressione che ormai non è più nella normalità oppure è un po' al di sopra. La differenza per esempio della cataratta che anche se la opero un anno dopo non succede niente, in questa patologia tutto quello che perdi non lo recuperi più, per cui la tempestività chirurgica in questo caso è fondamentale.